L'ultimo DPCM restringe le maglie anche le attività sportive. Le organizzazioni del settore rivendicano il ruolo dello sport anche come fattore di crescita economica. Lo sport è esattamente economia, è economia di impresa, è economia sociale, è lavoro, è sostegno delle famiglie e dei nostri figli. Rispetto a questo, questo DPCM chiudendo una buona fetta, anzi tantissimo rispetto alle attività sportive, un impatto come dire dal punto di vista economico è davvero pesante.